Fino a lunedì 10 ottobre prossimo nella sala della clinica Santa Barbara di Macchitella a Gela è possibile visitare la mostra di arte con pitture e fotografie inedite del collezionista Franco Pardo. L'iniziativa è del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. L'idea di promuovere questa mostra è perché io sono qua in questa clinica da circa 4 mesi e che sono arrivato e che dovevano mettermi in una tomba e grazie al dottor Barberi e a tutti i suoi componenti e sono adesso all'impiede per andarmene via. L'idea mi è nata per ringraziare la struttura della clinica Santa Barbara di tutto quello che hanno fatto per me e ho voluto omaggiare di questa mostra. Siamo lietissimi che le cose vanno avanti in questa maniera e io sono onoratissimo che ho partecipato con delle mie piccole opere di acquarello per abbellire un po' quel poco che potrebbe essere e quindi viva la felicità delle cose in sostanza. Le immagini raccontano i festeggiamenti della Pasqua in città e si completano con personaggi e frammenti della Gela Antica dove sono catturati vicoli ed edifici oramai cancellati dal progresso. Ho conosciuto il signor Pardo e ogni giorno è una nuova conoscenza perché mi stupisce ogni giorno che parlo con lui perché è un profondo conoscitore della storia di Gela è un profondo conoscitore di tanti usi e abitudini della Gela passata e che mi tramanda ogni giorno in un colloquio. Io lo vengo a visitare ma lui mi racconta tutta la storia mi rende più adotto delle storie della nostra Gela e naturalmente la mostra è fruibile per tutta la gente. per tutta la gente.